Continua a sudare l'Avellino in vista della Miechevole di Domenica, Palma Campania contro la Nocerina, fischio d'inizio alle 17.30, la squadra di Rastelli davanti a un volto pubblico al russo di Venticano prova gli ultimi sincronismi tattici in vista del match contro i Molossi di Mister Esposito. La bella notizia è che Tiago Cione, che ha lavorato con il gruppo squadra del centrolone polacco molto probabilmente Domenica, si prenderà subito la scena in mezzo alla retroguardia Erpina, mentre Jacopo Dall'Oio sta gestendo i carichi di lavoro. Il centrocampista, ex Blermo, si allena in maniera cauta, mentre Ricciardi lavora con i preparatori con sedute differenziate per recuperare al top la condizione, per poi tornare ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. Il duo, Marcello Trotta e Raffaele Russo invece, continuano i loro esercizi di riatletizzazione, mentre David Dei ha lavorato con i portieri. I lupi torneranno ora ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 18, sempre allo Russo di Venticano.